ciao a tutti e bentornati sul canale di fotonerd spero abbiate passato delle buone vacanze e che avete avuto la possibilità di portare con voi la vostra attrezzatura fotografica o attrezzatura video e metterla alla prova io non ho proprio fatto delle vacanze ma ho avuto la fortuna di poter documentare alcuni festival nel nord Europa e ho avuto la possibilità di mettere alla prova la mia Canon R5C in varie situazioni freddo caldo polvere luce del sole oscurità alte ISO una delle difficoltà che ho riscontrato è stata quella di provare ad utilizzarla sotto al sole o durante la golden hour diciamo in controluce la luminosità dello schermo esterno dell'R5C è ottima però in queste situazioni diciamo che ho avuto delle difficoltà ad esporre o comunque a comporre o a mettere a fuoco perché vi porto questo esempio perché ci sono degli accessori che potrebbero risolvere questo problema come ad esempio il port keys le i3 adesso andiamo a vedere cosa troviamo nella scatola troviamo sicuramente il mirino una chiavetta per loot e aggiornamento firmware un adattatore 90 gradi hdmi full un cavo per alimentazione di tap e un ricambio per dove appoggiamo il nostro occhio ma adesso passiamo alle specifiche tecniche il i3 è uno schermo da 2.4 pollici con una luminosità di 450 nits e una risoluzione di 1440 x 900 e con un supporto fino a 4k a 30 hertz ma dopo le specifiche tecniche generali passiamo un po' al design il prodotto è compatto ed è un misto tra metallo e plastica e un po' di legno su questo lato troviamo i tasti funzione che possono essere assegnabili per ognuno può essere affidata una funzione come ad esempio lo zebra il picking la griglia dei terzi eccetera eccetera sul lato sinistro troviamo i tasti per navigare all'interno del menu tra tutte le impostazioni sotto troviamo tre attacchi a vite che ci permettono di avere un po' di flessibilità quando decidiamo di attaccare il nostro mirino ad un possibile rig invece sul lato destro abbiamo il tasto di accensione l'accesso usb e l'hdmi full come potete notare nella parte posteriore potete trovare l'attacco a corrente e un vano per la batteria le batterie sono le lp6n che sono quelle comuni per canon e ho trovato questa soluzione molto comoda perché questo tipo di batterie le potete trovare praticamente ovunque da vari fornitori a diversi tipi di prezzi e soprattutto sono anche le stesse batterie che io utilizzo tutti i giorni quindi diciamo che in una situazione di emergenza posso usare una delle batterie della mia camera per alimentare il mirino anche se in realtà per il mio utilizzo quotidiano io di solito cerco di attaccarlo sempre alla corrente o la corrente o la batteria V-Lock che ha vari attacchi di tap in modo da poter conservare diciamo le batterie per la camera. Quello che mi è piaciuto di più di questo prodotto è la regolazione delle diottrie a vite come potete vedere il meccanismo funziona in questo modo ed è intuitivo ed è molto semplice quello che invece non mi è piaciuto tantissimo è l'utilizzo della gomma piuma per poggiare il nostro occhio diciamo che risulta un po' cheap però effettivamente l'utilizzo del velcro per tenere aperto e poi momento smr chiuderlo effettivamente comodo. Passiamo invece alle funzioni principali di questo mirino che effettivamente poi motivano in un certo senso l'acquisto di questo stesso mirino perché uno potrebbe dire che senso ha ho già quello della mia mirrorless assolutamente d'accordo però è anche vero che grazie ad un mirino dedicato avete a disposizione molti strumenti che probabilmente in una mirrorless non ci sono ad esempio i false color non è detto che siano presenti in tutte le mirrorless però è uno degli strumenti più affidabili o comunque più utilizzati nel mondo del video per esporre correttamente. Inoltre alcune volte è più conveniente sicuramente richiamare delle funzioni direttamente dal dispositivo piuttosto che dalla mirrorless stessa perché bisognerebbe navigare in molti menu per creare le impostazioni giuste invece per comodità grazie a questo mirino cosa potete fare potete diciamo lasciare il segnale pulito del video che esce direttamente dalla camera e richiamare tutte le funzioni base come ad esempio la griglia dei terzi direttamente dal mirino. A proposito di tutte queste funzioni adesso le andiamo a vedere un attimino più nel dettaglio all'interno troviamo vari tipi di linee guida come ad esempio la regola dei terzi di vario colore poi ci sono altri tipi di guida per i formati per adattare la nostra composizione in base al formato video che può essere cinematico oppure in formato social verticale. Cosa che probabilmente non troverete all'interno della vostra mirrorless ma magari trovate in monitor da campo ecco il concetto è lo stesso mi sono ritrovato in alcune situazioni dove dovevo dare priorità al formato verticale e sicuramente avere delle guide all'interno del vostro schermo o comunque all'interno del vostro mirino che hanno la possibilità di comporre in funzione del verticale sicuramente meglio. Poi ad esempio troviamo il peaking, l'istogramma, la zebra, il waveform che non è detto che li possiate trovare in tutte le mirrorless e il false color come dicevo prima. E tutte queste funzioni le trovate su una cinema camera diciamo che se magari non avete il budget per comprare una cinema camera avere un mirino del genere potrebbe in un certo senso farvi fare uno step up senza dover cambiare il corpo. Una delle funzioni che ho trovato più interessanti sicuramente è il caricamento di loot tramite usb. Nella confezione c'è la chiavetta usb come dicevo prima che vi permette praticamente collegandola al pc di caricare tutte le loot che volete sia quelle di conversione da log a rec 709 che è lo spazio colore che trovate sugli schermi sui vostri cellulari direttamente dal pc al mirino. Perché è così importante la possibilità di caricare delle loot direttamente in mirino? Perché ci permette di esporre correttamente in base al nostro stile. Avendo la possibilità di caricare ad esempio una simulazione pellicola 2383 di Kodak abbiamo un'anteprima reale di come potrebbe uscire il nostro prodotto senza doverci preoccupare troppo ad esempio delle regole di esposizione dei log. Se è vero attualmente molti mirrorless ci danno già la possibilità di avere il visual assistant che praticamente converte il log in un profilo colore che si chiama rec 709. Per avere la possibilità di memorizzare varie loot direttamente diciamo colorate ci dà la possibilità di avere il risultato finale e di risparmiare un sacco di tempo in una delle fasi più importanti dell'editing video, la color. Bene dopo avervi detto tutte le caratteristiche che per me sono anche un po' i pro passiamo ai pochi contro. Il contro principale come anticipavo prima è sicuramente la qualità dei materiali. Questo misto tra plastica e metallo sicuramente ci dà la possibilità di avere un prodotto un po' più leggero e quindi di non appesantire troppo il nostro rig. Ho apprezzato molto il tocco di legno però effettivamente per il prezzo che andremo a vedere dopo non mi ha convinto tantissimo soprattutto per la parte di gomma piuma. Un aspetto molto importante che è quello della lunga esposizione del vostro occhio all'interno del mirino. Diciamo che stando troppo tempo diciamo appoggiati al mirino stanno in questo modo praticamente una volta che vi staccherete proverete del bruciore all'occhio. Ma è una cosa che succede anche appoggiando l'occhio sul mirino elettronico della vostra mirrorless fisicamente è proprio una condizione dello schermo così piccolo che vi spara dentro all'occhio un sacco di luce. Però adesso arriviamo al prezzo. Il Portisle i3 esce ad un prezzo di listino di 479 euro e potete acquistarlo direttamente dal loro sito. 479 euro sono un prezzo sicuramente importante e che per un gadget del genere potrebbe far riflettere alcune persone però io ritengo che questo tipo di prodotto è un prodotto per delle persone o comunque dei videomaker degli utenti che sanno già quello che vogliono nel senso sanno già quali sono le situazioni che dovranno andare a riprendere e che quindi lo riterranno essenziale. Oppure riterranno il costo di 479 euro minore rispetto che a cambiare un corpo macchina o a dover stravolgere totalmente il proprio setup o che ad esempio hanno già un rig formato e questo è il loro pezzo mancante. Bene questa recensione è finita e spero che vi sia piaciuta. Se c'è qualche domanda che volete farmi potete farla qui sotto. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.